Ah, che bella l'estate, il sole, il mare, le cozze, ortighe, champagne, è tanto riposo. Cecchini, ma che cosa sta facendo? E chi? Lei, dobbiamo pensare al lavoro. Sto lavorando io? Ah sì, sì, mi sto occupando di contrabbando di cocomere, squale, salvataggi bambini. Sì, vabbè, forza, torniamo in caserma. Aspettiamo Don Matteo. Don Matteo? Ma chissà quando arriva. Tranquilli, torno a settembre con i nuovi episodi.